Cosa vuol dire quindi che con la nuova legge è tassata la sola detenzione di criptovalute? Dove? Qual è la situazione in cui è tassata la sola detenzione di criptovalute? E in quali casi invece non scatta la tassazione anche in caso di detenzione? Fai attenzione a questa parte che è interessante perché ci sono delle soluzioni per evitare la tassazione in caso di detenzione. Ovviamente non sono applicabili da tutti ma insomma meglio saperle che far finta di niente. Prima di partire però con questo video di approfondimento vi ricordo per chi di voi ha bisogno di un software per compilare il quadro RV, avere saldo iniziale, saldo finale, quadro RT, sanatorie, plus valenze, qui in basso link in descrizione con un codice che potete attivare per ottenere uno sconto del 25% sul software di Crypto Books appunto. Quadri RV passati, presenti, futuri, partecipare alla nuova sanatoria in basso provatelo o meglio provate ad approfondire questo tipo di prodotto che potreste anche consigliare al vostro commercialista. Io forse in voi lo utilizzerei da solo perché è sufficiente inserire a volte la chiave pubblica, inserire il quadro CSV per andare anche a riscontrare se lo stesso file CSV vi dà dei risultati corretti perché quello che abbiamo scoperto tramite questo software è che alcuni dati non sono corretti manco sui file CSV che vengono forniti da parte degli exchange. Comunque Crypto Books qui in link in descrizione se puoi interessarti. Andiamo avanti. La nuova legge, semplicemente in buona sostanza, ci dice che se noi vincoliamo, blocchiamo degli asset e questi asset ci producono dei frutti, delle rendite. Il caso semplice è il mining, lo staking, l'airdrop. Questi sono gli esempi classici. In sostanza, in caso di staking, tutto ciò che è frutto di quell'attività di blocco delle tue criptovalute messe in stake, saranno tassati, tutto ciò che sono i frutti, saranno tassati nel momento del realizzo. Un casino. Un casino pazzesco. Cioè, al momento del realizzo è un casino pazzesco. Perché? Perché se mi pagano giornalmente interessi, o se ad esempio mi muovo tramite la DeFi, come non usciamo fuori? Un casino. Però questo è quanto. Ovvio che sarebbe stato più logico seguire il ragionamento che sia stato fatto sullo scambio cripto su cripto. Cioè, lo scambio cripto su cripto di criptovalute che sono simili. Potremmo aprire una parentesi grande come una casa. Perché simili cosa vuol dire? Che un utility è uguale ad una security, che è uguale a un mezzo di pagamento, che Bitcoin è uguale quindi ad Ethereum, che è uguale, non lo so, a Polkadot, a Uniswap, non lo so che cosa. Ma lì, dal mio punto di vista, il legislatore ha fatto bene. Per semplificare, a parte gli NFT, che comunque poi li tratteremo evidentemente in un altro video, lo scambio cripto su cripto non è tassabile. Insomma, avevamo detto noi un po' di anni fa va bene, va bene anche, va meno bene per tutti quelli che si sono invece dovuti, hanno dovuto seguire indicazioni di altri studi commercialisti che invece gli hanno fatto pagare le tasse. e adesso propongono la restituzione, come no, dei rimborsi. Beh, sarebbe stato più logico applicare questo tipo di ragionamento anche per quanto riguarda, ad esempio, attività di staking, più che di airdrop, di mining, no? E invece no. Se tu blocchi degli Ethereum e produci degli Ethereum, che ti vengono riconosciuti con scadenza temporale X, ogni volta che realizzi questo nuovo frutto dell'attività di staking, di interessi che ti vengono riconosciuti, tu lì devi individuare qual è il prezzo a quel giorno, prendendolo dalla piattaforma, dall'exchange, come se questo avesse un valore, come se i dati di CoinMarketCap, e CoinGecko hanno un valore? Andiamo di un valore e pagarci sempre il 26%. Questo vuol dire tassazione della nuova legge sulla sola detenzione. E ora, quando invece questo non accade? Quando non è soggetta a tassazione la sola ed esclusiva detenzione? Beh, semplice, più o meno direi tu semplice, per tutte le criptovalute che sono detenute da chi esercita un'attività d'impresa. E a questo proposito ti devo leggere il nuovo comma 3 bis dell'articolo 110 che dice in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo ai commi dall'1 all'1 terro del presente articolo non concorrono, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Chiaro? Cioè, dato che non viene detto nulla sul realizzo in merito alla detenzione di asset detenuti di attività di impresa va da sé che tutto, Stambaradam, seguirà quelle che sono la disciplina del reddito di impresa. Questo è quanto? Cioè, per dirle in breve, la detenzione tramite società è più conveniente che è la detenzione tramite persona fisica. E lo ripeto, per chi detiene asset, a prescindere da tutte le modalità contabili per redigere il bilancio, le valutazioni di criptoattività all'interno di società non hanno alcun impatto fiscale. Questa è la situazione al momento, cioè considerando che non ci sono altre disposizioni in questo momento. Quindi cosa accade con una società che decide di mettere a staking degli ethereum e ottiene in cambio parti di ethereum, che anno dopo anno le andrà a valorizzare all'interno del conto economico. Se aumentano o perdono di valore, aumenterà il valore e via discorrendo. Ovviamente questi valori rientreranno nella logica del conto economico, degli aspetti positivi e negativi. Quindi è evidente che se uno attua delle operazioni, degli strumenti di pianificazione fiscale per il tramite di una società, riesce a gestirli al meglio, sicuramente a pagarci meno tasse. Questo è quanto. Lo so che per tutti gli altri è un casino. Ma questo è quando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.